Oggi andrai a reagire ad alcuni oggetti. Scopriti la benda. Cosa sono quelle cose lì? Per la precisione quella lì grande è la PS1 Fat ed è uscita nel 1994, quella lì invece più piccolina al centro è la PS1 ed è uscita nel 2000. Adesso la puoi provare, attacca il joystick. Ok, adesso quelli davanti sono alcuni giochi, scegli uno che puoi provare. Ok, quello è Crash Team Racing uscito nel 1999. Ok, quello è FIFA Football 2004 uscito alla fine del 2003. Adesso prima di accendere la Play hai detto che quella lì è quella verde, cos'è? Ok, inserisci anche quella. Perché nella PS1 la memoria era esterna. Devo aprirla? No, no, devi inserirla sopra al joystick, dove è inserito il joystick. È giusto, sopra dove è inserito il joystick. Sopra il joystick. Di là. Qua! Ok, inserisci il joystick nella PlayStation. No, non c'è l'altro. Quindi non c'è l'altro. éricane. Bensì. Ok, mazza. Ok, buona, c'è l'altro. Ok, zo. L'altro. Ok, buona, mazza. Allora, c'è l'altro. Ok, buona, c'è l'altro. Questo è l'altro. Ok, buona, c'è l'altro. ok adesso accendi la playstation adesso per fare una partita chiameremo un altro giocatore che giocherà insieme a te i me io ho vedo qui adio adio oh 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 Aaaaaaaaaaaaaa Siiiiiiii Capriolo poi Capriolo è un sogno a bucci Attenzione E' la vince Ok, adesso puoi spegnere la PlayStation Allora, prima impressione, ti è piaciuta? Sì No E la verità? Sì, la è La compreresti? Dipende quanto costi Preferisci questa qui o la PlayStation 4? 4, uomio Cioè, che domande sono? E che differenze noti rispetto alle nuove PlayStation? Che sono più grandi E che magari la qualità del gioco è un po' più diversa Cosa che devo dire? Grazie per aver guardato questo video Lasciate un like, un commento Iscrivetevi al canale